Pronto? Sì. Ah, siamo nella Capitale! Carissimi amici di Sisal, benvenuti! Finalmente siamo arrivati nella Capitale, l'aspettavamo da tanto questa estrazione, al Caffè Castellino hanno vinto altri 500 mila euro. Complimenti Marilena, questa settimana è la tua ricevitoria, quella fortunata. Grazie. Allora, siamo in compagnia di Marilena, la proprietaria della ricevitoria Vincente, allora come ci si sente a essere i protagonisti di questa giornata? Ma io non voglio fare retorica, ma sono felice e spero e mi auguro di aver aiutato qualcuno che aveva magari bisogno. L'Identikit qual è? Guarda, la nostra ricevitoria è frequentata soprattutto da impiegati che magari desiderano realizzare i propri sogni che con questa vincita straordinaria potrà accadere. Spero e mi auguro che sia un lavoratore che possa migliorare la propria vita e quella dei suoi familiari. Allora, in compagnia di Freddy, cosa faresti con mezzo milione di euro? E io me ne vado in paese. Prima di tutto una bella casa per la mia famiglia. Probabilmente non mi troveresti a sistemare il latte in questo momento. Ti metterei nel salvadanaio. Comprerei una casa. Bye bye! Grazie, ho vinto! Saluti dalla capitale e in bocca a lupo tutti!